Non permettere al male di spegnere tutte le luci, di toccare il nucleo più intimo dove risiedono la speranza, la libertà, gli affetti. È un messaggio inedito, a tratti spiazzante, quello contenuto nel libro di Rocco Mangiardi, testimone di giustizia sottoscorta dal 2009. Poesie d'amore, di fede e di ciarpame, edito da Calabria Edizioni, è una raccolta di pensieri che usa il linguaggio della poesia, quello che Agnese Moro, autrice della prefazione, definisce il respiro del mondo. Con Agnese ci siamo incontrati quasi otto anni fa durante una manifestazione per la ricorrenza di una vittima che si chiama Marcello Torre a Pagani e da lì non ci siamo più abbandonati come amicizia e come tutto. E a lei ho fatto leggere queste qualche poesie delle mie e è stata talmente gentile. Il titolare di un'attività commerciale alla Mezzia, Rocco Mangiardi, minacciato dal clan dei Giampà, ha denunciato i suoi estorsori e sostenuto una lunga battaglia in tribunale senza mai arretrare di un millimetro. Ed è quello il ciarpame al quale fa riferimento nel titolo del libro, l'andrangheta che fa passire tutto ciò che sfiora, finché non si scontra con la resistenza di un solo filo d'erba, apparentemente fragile ma saldamente ancorato alla terra, esempio di coraggio e di resilienza. Affinità, parla di un filo d'erba, io mi considero un filo d'erba e non abbiamo paura, poi finisco questa poesia e non abbiamo paura che la falce arrivi, ci troverà ben vivi. Loredana Colloca per la Cineus 24